Ciao ragazzi, siamo tornati a un allenamento dedicato agli amici che non sono tanti sportivi, che vogliono magari utilizzare le pedane vibrante ma hanno problemi di schiena, anca, genocchio e bene. Allora, accendiamo la nostra pedana, ci portiamo la nostra pedana a una vibrazione che possiamo sentire e voglio farti vedere un paio di cose. La prima cosa che comincerai a sentire e potete anche vedere che la vibrazione mi arriva fino alle anche ma la schiena è ferma, questo mi permette se ho problemi di schiena di comunque utilizzare una pedana vibrante. Vorrei che anche portasse un elastico, se non avete l'elastico potrete utilizzare un vecchio paio di fusò o di calze per avere un aiuto e io adesso sto vibrando, scusami voglio vedere di nuovo a che velocità, sono a 90 e la porto a 100. Ricordiamo che questa pedana arriva fino a 180 e tanta, 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 tanta roba a 180 non è necessario arrivare, specialmente se c'è problema di vene. Le prime volte se c'è problema di vene magari comincio a 50, 50, andiamo, ti facciamo vedere 50, allora 50, ci siamo quasi, 50, 5, 3, 2, 1, già, questo è 50, più allargo le gambe più lo sentirò la vibrazione, più chiudo più riduco la vibrazione che è, così vado largo. Mi giro poco a poco perché voglio fare un'inquadratura un po' più elegante, eccoci qua. Ok, rialzo la mia pedana. Allora, facciamo caso che tu stai lavorando, lo puoi mettere sotto la tua scrivania o stai guardando la televisione. Allora, mi vengono in mente tutti quelli che sono pigri, magari avete un problema di 5, 7, 10 chili in esubero e non sei una grande, diciamo, sportivo, ma vuoi comunque drenare le gambe. Questa è la prima cosa che possiamo fare. Più io rimango appoggiata delicatamente, questo è il defaticamento, ok? Mi aiuta a defaticare, mi aiuta a drenare. Più applico peso sulla pedana, più attiverò i muscoli. L'altra cosa che possiamo utilizzare sono gli elastici, che possono essere utilizzati o innalzati laterali o accorcio l'elastico e vado a fare bicipiti, così mi permette di fare un allenamento mentre sto guardando la televisione, mi sto facendo passare il tempo e comincio a sentire il lavoro anche da seduto ed è anche da difaticamento. L'altra cosa che vorrei farvi notare è che mi sta arrivando fino all'anca, vedi questo movimento in questo distretto qua, questa vibrazione mi sta aiutando con gli anestetismi delle cellulite perché gli anestetismi delle cellulite spesso e volentieri sono in questione legate al tessuto connettivo, ancora più del microcircolo, che il microcircolo è rallentato perché il tessuto connettivo diventa rigidito, diventando duro, noduli, cordoni, diventa questa pelle a matterasso, fa sì che il microcircolo non passa, così se noi vogliamo che si libera il microcircolo, che cosa dobbiamo migliorare? Dobbiamo migliorare proprio il panicolo di adipe sotto cutaneo, che è incapsulato, globalizzato del tessuto connettivo e provare di liberarlo. Questa è la prima cosa che possiamo fare mentre stiamo sedendo dietro le nostre pedane vibrante e tu vedrai che comunque tu senti il lavoro, senti il formicolio e questo formicolio è eccellente per il microcircolo, è eccellente per la pelle, è eccellente per gli anestetismi delle cellulite e è eccellente per i muscoli. Ovviamente da seduto avrò magari meno stimolo sui muscoli perché non sono appoggiata di peso sopra le pedane, ma tutto serve e serve tutto. Spalle basse, gomiti leggermente piegati, continuiamo a salire e scendere con le braccia. Ovviamente se sto al lavoro e la metto sotto la mia scrivenia, non posso usare le braccia che magari sto facendo una ricerca su internet o lavorando su internet, ma la cosa importante è di lavorare per tonificare e fare quel minimo di 5, 7, 10 minuti al giorno per avere un risultato. E a me piace tanto, tanto, tanto questo fatto di aiutare le persone, perché mi vengono in mente, no? Mamma, mia mamma non si elena più, mia mamma non si elena più, metto giù le mie elastici, prendo il mio band elastico e adesso a questo punto, mamma mia ci ho prudito dappertutto, microcircolo go, go, go. Ok, qui spingo in avanti, posso anche tenermi sulla seduta o qua, qua, mi spingo su e comincio a fare in apertura, piccole aperture per aiutarmi con l'esterno coscia e noterete che quando la gamba è legata ti aiuta anche a mantenere la posizione più sulla piedana vibrante. Quando hai piedi sulla piedana vibrante ogni tanto vedi che scivola via, vieni via, invece così possiamo fare esterna coscia, possiamo lavorare, microcircolo e guardare la tele o fare qualcosa con la gil. Continuiamo, questa è la mia nuova piedana vibrante, sono molto contenta di venire nella piedana che conosco da anni, lo aiutavo, io sono un consulente, se qualcuno mi chiama e dice qual è l'attrezzo ginico migliore, mi fanno vedere i diversi campioni, io scelgo utilizzando tante linee di parametri, che cosa serve? Potenza, larghezza, stabilità, silenziosità, robustezza, compattezza, ci sono un sacco di fattori che uso per giudicare un attrezzo ginico e questo modello l'ho scelto anni fa perché lo trovo meraviglioso. In più, cosa che non vi ho detto ancora, c'è bluetooth su questo, io posso legare un font di audio che può essere un audiolibro, posso mettere un webinar, posso mettere qualcosa direttamente, la partita, taccato sull'autoparlante della pedana stessa e mentre sto facendo il mio lavoro posso anche ascoltare la musica o ascoltare un audiolibro per allenarmi mentre sto vibrando e questa è una cosa eccellente per avere risultati in poco tempo. Ok, libere le gambe, facciamo un'altra cosa, divarichiamo le ginocchia, portiamoci in avanti, ok, e spingo perché sono sempre seduto, questo mi blocca le anche e mi permette la schiena di non essere sollecitato e mi permette di lavorare un po' più sull'interno coscio perché divarico le gambe, divarico le punte. Altro plus di questa pedana è la larghezza perché la larghezza mi permette, io sono abbastanza alta, sono 1,74 m, ovviamente se sei 1,80 m in su magari le tue leve sono assai più lunghe di mie, a quel punto potresti utilizzare uno sgabbello a posto della sedia, però spingo, sto spingendo verso la pedana, più spingo verso la pedana più attivo le muscoli che mi interessano e in questo caso stiamo concentrandoci sulla parte interna della coscia, con l'elastico abbiamo parlato della parte esterna della coscia e qui stiamo parlando della parte interna della coscia per darci grandi risultati. Ci manca un minuto e 53 secondi, l'altra cosa bella delle vibrazioni è che 10 minuti di vibrazione equivalgono quasi 30 minuti, 40 minuti, gli stessi esercizi a terra. Ovviamente da seduto avere qualcuno che ti muove le gambe a questa velocità senza che tu stai applicando alcuna fatica è quasi impossibile. Posso anche mettere le braccia, metto le braccia sulle ginocchia e vedrai che le braccia bailano, sto vibrando soltanto a 100, volendo per l'ultimo 90 secondi, aumento anche la velocità, aumentando la velocità ovviamente sentirò ancora più il lavoro, ma la schiena come potete notare è 100% fermo. L'altra cosa è che se avete il problema di capillari fai un integratore tipo FarmVen che ti permette di avere una copertura fitoterapica che ti aiuta proprio l'integrità delle pareti venose, che ci aiuta a aumentare il spessore delle pareti venose così le pareti venose funzionano meglio e quando hanno tutto questo stimolo del microcircolo non è troppa, non è un stimolo troppo aggressivo. Continuiamo che sono ultimi secondi ricordandovi che la pedana vibrante può essere utilizzata anche da seduti e continuo, vedete come la vibrazione mi arriva fino all'anca, 19 secondi per finire in bellezza, sentirete anche delle formicolio, quello segno che il vostro microcircolo è inattivo, ti aiuterà anche con le caviglie, le caviglie che sei, hai le caviglie gonfie, se hai le caviglie grosse, ci aiuta anche tutto questa vibrazione all'altezza delle ginocchia, scusami delle caviglie, ti aiuterà anche a drenare le caviglie per avere una caviglia e ginocchia più definito, più diciamo drenato e più bello. Baci dalle Gil, passate una giornata meravigliosa e ricordate che il movimento fa sempre bene anche da seduti.